Una volta c'erano i vendor, oggi ci sono le società che interpretano l'evoluzione tecnologica, individuano nuova domanda, ma in un contesto di forte standardizzazione. Come mettere assieme l'esigenza di interoperabilità e di standardizzazione con la vocazione a curare invece le domande di nicchia interpretando esigenze specifiche? Ne parliamo con Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel. Nel mondo delle telecomunicazioni c'è in atto un forte processo di consolidamento, sia sugli operatori di telecomunicazione sia anche nei grandi vendor e quindi evidentemente la standardizzazione in questo contesto gioca un ruolo fondamentale. Nell'ambito della standardizzazione Italtel sta procedendo, sta contribuendo in maniera molto attiva. Ad esempio noi siamo membri della cosiddetta Network Function Virtualization che è quella unità all'interno dell'Ezzi, che è un ente di standardizzazione europeo, che porta avanti un'evoluzione della rete più verso le tecnologie software che non verso le tecnologie hardware cosiddette embedded. Siamo spesso scelti perché siamo estremamente flessibili, adattiamo un prodotto o dei prodotti che sono standard a un contesto comunque complesso degli operatori, soprattutto quelli di grande dimensione, e li aiutiamo a mettere in rete più velocemente le loro soluzioni. In un momento di recessione o di crisi economica marcata come quella in cui viviamo vi è un problema di profittevolezza degli interlocutori con cui si opera. Voi dall'altra parte del mercato avete degli operatori di telecomunicazioni, delle imprese e avete anche pezzi importanti di pubblica amministrazione dove forse non si parla di profittevolezza ma di efficienza nei servizi offerti al cittadino. Ecco, come vi ponete voi di tal tele rispetto alla esigenza di sostenere la spinta alla profittevolezza e all'efficienza? Noi ci poniamo in questo modo che abbiamo da un lato la necessità di fare molta innovazione consentendo sostanzialmente due cose. L'interoperabilità tra diverse reti e quindi in questo senso l'efficienza è nel trovare la soluzione di interconnessione più conveniente dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico. E dall'altro lato la monetizzazione della qualità del servizio. Questo concetto, monetizzazione della qualità del servizio, tende a seguire gli operatori nella loro ricerca di come valorizzare le proprie reti non soltanto nei confronti dei loro clienti, della loro base cliente, quella tradizionale cioè i clienti con uno smartphone o con un telefonino o i clienti con un pc o un accesso broadband ma di cercare tale profittabilità anche su altre categorie di clienti come si stanno manifestando essere i cosiddetti over the top, cioè quelle aziende che creano i servizi e le applicazioni sopra nel mondo dell'internet e ovviamente ne propongono i contenuti sulle reti. Prima parlavamo di tre grandi interlocuzioni con gli operatori di telecomunicazioni, con le imprese e con la pubblica amministrazione ma i primi tra essi, cioè gli operatori di telecomunicazioni hanno un traguardo importante per noi tutti, quello delle reti di nuova generazione. Italtella è molto impegnata su questo versante ma sappiamo che è un percorso complesso che riguarda il punto d'approdo del cloud e anche i cosiddetti SaaS, il software as a service frontiere molto rilevanti su cui Taltella è fortemente impegnata. Vorrei chiedere qual è la sua opinione anche personale su questo percorso molto impegnativo che lo stesso paese sta attraversando. Beh, le reti ultra broadband sono una fortissima opportunità per i paesi per velocizzare, per accelerare la propria competitività e ovviamente per gli operatori di telecomunicazione e per gli operatori sul mercato degli apparati e dei sistemi per poter evolvere nel proprio business. Quindi è una fortissima opportunità per ultra broadband, noi intendiamo lo sviluppo veloce delle reti mobili di quarta generazione con le tecnologie e le architetture LTE e dall'altra parte la sviluppo veloce delle reti di accesso basate su fibra ottica poi siano esse fino al cabinet oppure fino al building oppure fino alla casa diciamo saranno dei passi successivi ma quello che è importante capire è di andare velocemente verso la strada dello sviluppo delle reti ultra broadband basate su fibra ottica per l'accesso fisso. In questo contesto il trend importante che si sta manifestando nelle reti è da un lato appunto l'altissima velocità, la bassissima latenza, quindi la tempestività di risposta ai singoli dati da parte delle applicazioni e evidentemente la sostenibilità economica come abbiamo detto poc'anzi, quindi velocità, quindi bassa latenza e sostenibilità economica quindi in questo senso uno degli aspetti importanti è che per essere veloci e poco care, poco costose fra virgolette, le reti devono essere come elementi distribuiti molto semplici quindi reti basate su parti elettroniche molto semplici e molto distribuite e invece concentrare tutta l'intelligenza nel software centralizzato che ha chiamato di tipo SaaS, quindi software SaaS service o soluzioni simili oppure quella che citavo prima, network function virtualization e quindi l'intelligenza delle reti e i servizi offerti dalle reti sono, saranno sempre di più software e sempre di più sviluppati nei grandi data center che saranno parte integrante delle reti stesse reti di nuova generazione e di questo abbiamo parlato ma anche nuovi servizi per le imprese e per i cittadini stiamo configurando l'obiettivo di un'Italia digitale che tutti vorremmo e per la quale stiamo tutti, credo, lavorando vorrei chiederle qual è il contributo specifico che Italtel può dare a questo percorso Dunque, ce n'è uno particolarmente al quale particolarmente sono affezionato e che riguarda l'evoluzione delle reti delle pubbliche amministrazioni della pubblica amministrazione. Noi come sappiamo la pubblica amministrazione oggi ha fatto a partire dal 2004-2005 un percorso molto importante di innovazione il sistema pubblico di connettività, voglio citare perché è stato un passo molto importante oggi quello che ci si aspetta dall'ulteriore evoluzione delle reti pubbliche della pubblica amministrazione è un approccio a rete, non più un approccio a connessione un approccio a rete, un approccio a rete che oggi non è implementato nella pubblica amministrazione oggi la pubblica amministrazione ha non una ma circa 40 reti nazionali e circa oltre 20 reti regionali le quali si interconnettono semplicemente attraverso le reti degli operatori si interconnettono nei modi molto tradizionali che sono del protocollo ISDN di 30 anni fa quindi ovviamente c'è bisogno di un fortissimo sviluppo io credo che sia possibile, credo che ci siano le tecnologie e la capacità di progettare questa forte evoluzione se ne avrebbe un fortissimo beneficio economico e in questo senso Italtel, e questa è un po' la proposta che stiamo facendo può dare una grossissima mano ad identificare, a dare dei contributi per le architetture e poi ovviamente a competere sulle soluzioni da questa parte abbiamo le imprese e dall'altra parte abbiamo i decisori che disegnano gli scenari ma stabiliscono anche le regole del gioco e le road map c'è una cosa che forse potremmo chiedere o fissare o indicare o suggerire perché l'Italia digitale sia più a portata di mano e ci veda tutti uniti per correre in quella direzione cosa suggerirebbe Ingegner Pileri? ma diciamo, come dire, spesso dico che bisogna fare quello che abbiamo deciso di fare nel senso che in Europa, perché noi come Italia giustamente ci sentiamo un po' tra i primi azionisti dell'Europa ci sentiamo, che ne so, tra i fondatori, gli azionisti di maggioranza dell'Europa abbiamo deciso di fare la Digital Agenda for Europe e l'abbiamo deciso con dovizia di particolari, con temporizzazioni, con quello che dobbiamo fare adesso pensare a ulteriori cose rispetto a quelle è inutile perché già abbiamo pensato tutto allora qual è il tema? il tema è realizzarlo e realizzarlo a mio avviso è possibile con una buona governance diciamo che io penso che ci stiamo avvicinando a scegliere la governance migliore per questa agenda digitale e poi farlo grazie a grandi imprese, grazie a medie imprese e grazie evidentemente in primis alla pubblica amministrazione bene, grazie all'ingegnere Stefano Pirelli, amministratore delegato di Taltel, grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi